Un dramma nel dramma, arrestata la donna che ha abbandonato il suo bambino di 7 mesi alla stazione Termini a Roma. È stata rintracciata ieri in tarda serata dalla polizia ferroviaria di Bologna insieme all'altra figlia di 5 anni, ora in carico ai servizi sociali. Si tratta di una 25enne nata in Italia, di origine croata, arrestata per abbandono di minore. Gli agenti che hanno fermato la donna hanno condotto la figlia che stava viaggiando con lei sul treno Roma-Monaco al pronto soccorso pediatrico del Sant'Orsola, dove è stato accertato che tranne una lieve e chimosi a uno zigomo, la bambina sta bene. La piccola è stata collocata in una struttura per minori, mentre la 25enne è stata portata nel carcere della Dozza. Ad allertare la polfer di Bologna sono stati colleghi di Roma che avevano inviato la segnalazione con le descrizioni della donna e alcuni fotogrammi ricavati dalle telecamere di sorveglianza della zona. La 25enne non ha precedenti e come ultimo domicilio conosciuto risulta vivere presso una struttura di accoglienza per madri in difficoltà sulla Cassia a Roma. Un'ipotesi è che stesse cercando di lasciare l'Italia. Le indagini sono ancora in corso per stabilire reali motivi del gesto.